Ultimo video dell'anno, yeah! Per allietarvi in attesa del cenone di capodanno, ho deciso di farvi vedere quanto sono diventato forte a FIFA. Che culo, eh? Partita di esordio nella divisione 6! Uh! Brivido! Uh! Botta di culo di nuovo! E anch'io la traversa, ma si può! Due traverse a uno siamo! Mamma che stortume! Dai! Oh, da lì ho riuscito a metterla! Finalmente! Shurbelotti! Bravissimo! Beh, deciso di abbandonare. Va bene. Facciamo su 3-0 così in simpatia, va? Vabbè, direi che siamo partiti forte, dai! Seconda partita della Scarsoni FC! Stai lì a fare una bella statuetto o batti sto calcio d'inizio? Beh, bravo, ticcio! Oh, santo cielo, è uno di quelli che ha fatto tutti i giochetti di piedi! Bravo! Tutte queste finte me la tiri fuori! Aia! Fuori gioco? No? No? Va bene! E pareggio dello Shurbelotti! Non ci sperava nessuno, invece, eccolo qua! E invece no! Quella! È il nano malefico assegnato nuovo! Mi mangi così la rimonta! Ma dai, ma che gol di culo! Vabbè, dai! Persa così, però no! Dai, dai, su! Una vinta, una persa! Rifacciamoci! Oh, porca loca! Come potete vedere tra i pali, Ciro Di Marzio da Gomorra! Doppio porca vacca! Quasi segno di culo! 14 tiri a 4, direi che non sta andando malissimo! Non sta andando decisamente bene! No, no! Che bello! Dai, Donna Ventù! Eh, Donna Ventura, cosa mi sbagli! Ah, che culo! Almeno uno per la bandiera lo portiamo a casa! Ho già un'idea per il titolo del primo video del nuovo anno! Scar lascia stare i FIFA e si dà le bocce amatoriali! Sì, direi che meglio! 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 Sì, direi che meglio!